Allora l'amico Franchini ci ha portato alla promozione di questa cosa che accade in questo fine settimana perché Visionease ha organizzato questa cosa. Innanzitutto Visionease non è, a quello che ho capito, la conferenza stampa un franchising ma è un'associazione di ottici, no? Esatto, è un gruppo che lega tutte le realtà con un contratto in franchising però è un tipo particolare di franchising, molto morbido, noi la consideriamo più una società di servizi per gli ottici che sono legati a noi che non un franchising perché non prevede spostamenti di marchi piuttosto che intromissioni nella gestione, assolutamente. Noi abbiamo legato una serie di imprenditori ottici che desiderano crescere e distinguersi nella loro professione e nel loro territorio. Per far questo chiaramente li dobbiamo dotare di strumenti, questo è il nostro incarico. Il motivo di fare questo evento il 3-4 aprile è proprio ufficializzare l'uscita da quello che noi abbiamo considerato il medioevo della professione quindi un modo diciamo un po' vecchio di essere ottici. Avere il risorgimento dell'ottica. Esatto, un po' il risorgimento dell'ottica e entrare nel terzo millennio. È un modo strano di impatto per comunicare, noi abbiamo già con Piero fatto tante trasmissioni sulla storia di Arezzo ma Piero è un ottico oltre che un fotografo e quindi vorrei farti una domanda a bruciapelo. Secondo me ancora c'è un solco tra l'ottico negozio e l'ottico dottore perché per esempio, faccio l'esempio di questi occhiali che sono graduali, cioè vanno da meno 2 a 0 e io li porto con orgoglio. Ecco sono andato da un dottore che ha detto guardi che questi le impigriscono il cristallino per cui sono meglio quegli occhiali da poco che lei mette quando legge. Questo credo che non sia vero. Ma senti io diciamo di solito collaboro molto con gli oculisti però collaboro tra virgolette perché quando c'è da dargli del coglione proprio glielo do. Per quindi c'è proprio diretto. In questo caso. Glielo ho dato anche durante un'assemblea dei cento ottici che dicevo prima che ci sono in provincia. Perché chiaramente l'oculista di solito non conosce cosa è la lente. Quindi chiaramente è molto bravo nelle patologie però ecco diciamo nella visione cioè in questa branca che noi definiamo visione e non ha niente a che vedere con le patologie dell'occhio diciamo. Diventano patologie però e chiaramente prima c'è a monte tutta un'altra serie di cose. Ecco quindi ecco c'è collaborazione tra noi anche qui da Rezzo per dire noi ci incontriamo almeno un paio di volte all'anno per dire ecco con il primario dell'ospedale il professor Romani e quindi ci scambiamo delle esperienze perché noi portiamo a conoscenza le novità sulle lenti e sulle montature e loro ci portano diciamo le loro esperienze per quanto riguarda i vari interventi che fanno sulle gli occhi. A questa vostra diciamo incontro possono partecipare tutti i cittadini solo gli ottici o tutte e due? Allora questa in realtà è anche l'occasione di festeggiare i dieci anni della nostra realtà e gli inviti sono strettamente riservati ovviamente a chi ha partecipato da protagonista a questa costruzione di una rete efficiente. Però è obbligatorio mettere l'abito? È obbligatorio indossare l'abito quindi trasformeremo infatti questa cosa credo sia abbastanza divertente questo hotel molto moderno avrà trasformato in cioè avrà delle contaminazioni di medioevo quindi il 3 di aprile si assisterà appunto a questa trasformazione di pieno terzo millennio in medioevo per organizzare tutti gli invitati che poi prenderanno 5 carrozze trasformate in zucca e andranno tutti quanti al castello di Valenzano tutti insieme e poi lì c'è la serata di gala. Indubbiamente è un'iniziativa originale e a proposito di originalità e di professionalità abbiamo Vinai che è un grande artista aretino io pensavo fosse di Sansepolcro ma in realtà è nativo di Arezzo che cosa organizzerai tu? Dunque io rappresento appunto l'Accademia dei Musici Francesco Petrarca e noi cureremo la parte musicale che prevedrà la presenza delle buccine di Assisi a tutti gli annunci con trombe naturali e non le solite trombe a pistoni ottocentesche che molte ricostruzioni storiche purtroppo ancora usano e poi ci sono i danzatori del ballerino che forse sono i più importanti esponenti senz'altro a livello italiano della danza antica che avranno dei momenti di musiche quattrocentesche e un po' più recenti. Questo signore chi è? Claudio Fincato è in rappresentanza della Safilo che è una delle due aziende maggiori sul mercato mondiale di occhialeria ed è un'azienda nostra partner presente da sempre. Allora visto che lei della Safilo è abituata alla comunicazione guardando la telecamera in 10 secondi dica perché non si può mancare un appuntamento così. Diciamo perché i partner sono d'eccellenza, il gruppo è uno dei gruppi più importanti nel panorama italiano e sicuramente l'idea, quella di uscire da un modo vecchio di porsi e guardare avanti è un'idea che dovrebbe interessare molto sia gli ottici che gli utenti degli ottici. Il dono della sintesi Sì, io in proposito a quello che dicevi prima mi batterò affinché queste cose, oltre che agli inviti personali si possa fare qualcosa per scendere proprio sulla base, sulla gente che ci utilizza. Usciamo dal medioevo e capiamo di andare verso la modernità perché la vista, gli occhi sono importanti. Grazie a tutti voi e in bocca al lupo per la vostra manifestazione. Conquistami, l'arte della seduzione dalla sorgente alla foce. Questa cosa mi piacerebbe fare la mandù al ristorante La Fosce, lì da Palazzo del Perro per vire verso Castiglian Ferentino. C'è questo gioco nuovo, me l'avevano detto, col Franceschi il Bennati. Lo sapevo, lo sapevo. Conquistami ogni venerdì, il primo del mese. Ma come faccio a fare questa faccenda? Come si fa per tutto questo concistoro? Informati direttamente da Pippo, 347-751-7121. Mio che coppia di vitilline! Mio che coppia di vitilline! Grazie a tutti.